Musica Rogo nel centro rivestiamo da ningenti all'ex chiesa di centinarole e migliaia di abiti andati in fumo Oggi arriva l'appello alla città per un magazzino in cui proseguire l'attività dedicata ai meno abbienti Covid a scuola, in arrivo le nuove regole anticontagio, la quarantena per tutti scatta con tre positivi in classe Fammi andare tutti a casa per un solo positivo, sembra un po' troppo Due milioni per strade più sicure con piste ciclabili, asfalti e rotatori L'assessore regionale Francesco Baldelli annuncia i 23 comuni beneficiari Fano e Urbino rimasti a bocca asciutta Buche e crateri nei parcheggi di Via delle Querce a Fano L'appello degli esercenti per i lavori di asfaltatura, un pericolo per le persone e un incubo per gli automobilisti Ecco le immagini spettacolari che arrivano da Cantiano dove si è concluso con successo il primo intervento di demolizione di uno sperone roccioso Il sindaco commenta un'operazione di alta ingegneria svolta in poco tempo e in totale sicurezza Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia In primo piano l'incendio che ieri si è sviluppato nell'ex chiesa di Centinarola a Fano e che ha distrutto migliaia di abiti usati destinati alle persone meno abbienti Oggi la Caritas e la cooperativa sociale Contatto lanciano un appello ai cittadini ma anche agli imprenditori per un magazzino inutilizzato dove poter continuare queste importanti attività Erano circa le 16.30 quando un incendio si è sviluppato nell'ex chiesetta di Centinarola a Fano addivita da 8 anni a deposito di indumenti usati Le fiamme sono divampate mentre due operatori della cooperativa sociale Contatto stavano riordinando il materiale, metà del quale sarebbe stato ritirato oggi e destinato alle persone meno abbienti Il rugo è stato generato dalla vicinanza di un faretto con alcuni cartoni utilizzati per imballare gli abiti I due uomini presenti hanno cercato di domare l'incendio con gli estintori ma senza riuscirci Poi il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato conseguenze peggiori Purtroppo però, nonostante non vi siano stati danni alle persone e nemmeno alle proprietà limitrofe il centro è andato completamente distrutto e la struttura è rimasta danneggiata Questo significa che serviranno lavori di ripristino che chiederanno risorse ingenti e tempi lunghi Il servizio di Rivestiamo in questi anni ha fatto fronte a bisogni primari e urgenti della popolazione più fragile cioè quella in difficoltà economica, mettendo gratuitamente a loro disposizione indumenti coperte, asciugamani e altri beni tessili donati dai cittadini Michele, intanto come funziona la filiera? La filiera prevede che presso il centro di Centinarola venissero conferiti gli abiti dove venivano poi selezionati, suddivisi, igienizzati e poi destinati ai punti di distribuzione della Caritas oppure ai nostri negozi della filiera dell'usato, noi abbiamo due negozi come cooperativa sociale facciamo inserimento lavorativo di persone fragili, persone svantaggiate e questi negozi sono alcune delle attività attraverso cui facciamo questo servizio quindi sono negozi che si occupano di beni usati tra cui anche gli abiti E che cosa è andato distrutto? Ah praticamente a livello di materiali raccolti è andato distrutto tutto una parte proprio distrutta e una parte inutilizzabile e il resto inutilizzabile perché comunque con i fumi la fuligine non sarà recuperabile quindi la parte di tutti i beni tessili che c'erano sarà da buttare la smalteremo nei prossimi giorni e speriamo di poter recuperare qualcosa a livello di attrezzature, scaffalature eccetera la chiesa danneggiata del tetto è rovinato, probabilmente sarà da rifare la struttura dovrebbe essere in buono stato Ancora non siete rientrati? No, non possiamo ancora entrare entreremo domani assistiti dai vigili del fuoco domani appena sarà organizzata il lavoro di ripristino e quindi solo in loro presenza per cui noi in questi giorni non siamo entrati Ci vorrà dunque del tempo per poter ripristinare un po' tutto e oggi volete lanciare un appello alla città? Sì, noi vorremmo, siccome è un servizio importante che risponde a un'esigenza impellente che è quello di rispondere a un bisogno reale di chi è nella situazione di difficoltà proprio stamattina con Caritas abbiamo iniziato a valutare come riprendere l'attività e per riprendere l'attività noi vorremmo appunto lanciare un appello alla città se ci fossero imprenditori o proprietari di un locale idoneo, abbastanza grande, 200 metri o anche di più dove poter riprendere subito l'attività e nella fase, almeno in una fase temporanea in attesa di ripristinare quel luogo o comunque di sviluppare un'altra modalità però ecco vorremmo il prima possibile ricominciare a garantire la fornitura di abiti a chi ne ha bisogno A chi devono contattare? Possono contattare direttamente noi, la cooperativa sociale contatto oppure la Caritas Giocesana con la quale seguiremo un po' tutto questo iter di ripristino del servizio E apriamo la pagina della sanità con la decisione del sindaco di Rocca Fluvione in provincia di Ascoli Piceno che ha disposto la chiusura della scuola primaria e dell'infanzia del comune da domani a sabato 6 novembre Infatti questa mattina sono state confermate alcune positività il covid sia nel corpo insegnante sia nei giovani studenti per cui in accordo con le autorità sanitarie il primo cittadino Francesco Leone ha disposto alla sospensione delle elezioni in presenza Entro sabato il Dipartimento di Prevenzione dell'area Vassa 5 completerà lo screening che sta coinvolgendo non solo i docenti e gli alunni ma anche le famiglie E dal governo è in arrivo un nuovo protocollo per gestire i contagi nelle scuole e scongiurare la didattica a distanza In base alle nuove regole la quarantena per tutti scatterà con tre positivi in classe Servizio di Angeli Capanzieri Dalla didattica a distanza alla scuola in presenza ma tutto dipenderà dai contagi ancora una volta cambiano le regole della scuola Entro la settimana arriverà via libera le indicazioni per la gestione del covid negli istituti scolastici anche in vista di un possibile proseguimento dello stato di emergenza che sarà probabilmente prorogato fino al 31 marzo 2022 senza il quale la DAD verrebbe meno E' così in arrivo il documento ufficiale redatto dal Ministero della Salute e dell'Istruzione con il contributo delle regioni in merito alla gestione della quarantena Le nuove indicazioni prevedono che non venga istituita la DAD se c'è un solo positivo in classe Se sono due è prevista una quarantena selettiva a seconda del fatto che si sia vaccinati o meno Se invece i casi positivi sono almeno tre, tutta la classe resta a casa e quindi finisce in DAD Il documento mira quindi a salvaguardare il più possibile l'anno scolastico in presenza ma in caso di contagi e ricorso alla didattica a distanza verrà calibrato e si darà peso a test e tracciamento Valgono il molecolare, quello rapido, comprelievo, salivare e analisi molecolare da effettuarsi il prima possibile e dopo cinque giorni oltre che al termine dell'eventuale quarantena Nello specifico, nel momento in cui si verifica un contagio e l'ASD non può intervenire sarà sempre compito del dirigente scolastico sospendere in modo temporaneo le attività didattiche ed avviare le misure del protocollo Il provvedimento riguarda gli insegnanti e le famiglie degli alunni che sono stati a contatto con il caso confermato 48 ore prima della comparsa dei sintomi o dell'esecuzione del test qualora si tratti di un soggetto asintomatico Solo in un secondo momento interverrà l'ASD alla quale toccherà l'ultima parola per l'individuazione dei contatti stretti e non Le nuove regole dividono anche gli stessi cittadini Non d'accordo perché, secondo me, anche con un positivo la quarantena bisogna farla perché è pericoloso un positivo come tre Quindi sulla didattica da istanza d'accordo oppure no? No, ma anche perché, infatti anche io non vado più a scuola però vedo comunque che è difficile comunque farla anche per seguire bene le lezioni e tutto Un solo positivo mi sembra un pochino assurdo fargli fare tutti la DAD perché quella persona fa il tampone, faranno il tampone anche gli altri poi se sono tutti negativi vanno a scuola e se lui è positivo stare a casa lui cioè nel senso fargli andare tutti a casa per un solo positivo sembra un po' troppo Anche perché la DAD ha penalizzato molto gli studenti, insomma Anche per loro, perché stare a casa, studiare da casa perdi anche magari quell'opportunità di stare insieme, di integrarsi di scambiarsi le opinioni anche su degli argomenti scolastici, così Un po' relativo, nel senso che secondo me sarebbe molto utile poter fare i tamponi a tutta la classe in maniera che così sapresti chi mettere in quarantena e chi invece no Però non lo so, è un po' difficile in questa situazione dare proprio un parere o bianco o nero Sì, penso la stessa cosa, si dovrebbero fare i tamponi secondo me sempre soprattutto gratis per i bambini e per i genitori però ovviamente è difficile anche per il governo essere disponibili sempre per tutti Il governo però dice che con un solo positivo la classe non va più in DAD Secondo lei questo è giusto? Secondo me non è giusto perché ovviamente il positivo può contagiare tutti gli altri Nelle ultime 24 ore nelle Marche si è registrato un altro decesso legato al coronavirus La vittima è un uomo di 48 anni con patologie pregresse residente a Vallefoglia I nuovi positivi invece sono 140 di cui 35 in provincia di Pesero e Urbino Negli ospedali della regione ci sono 4 ricoveri in più nei riparti non intensivi Resta stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva mentre cala di 3 il numero dei degenti in semi intensiva E oggi l'osservatorio epidemiologico della regione Elistat hanno reso noto il trend delle vaccinazioni nella popolazione scolastica marchigiana Quasi 70% dei giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino Mentre tra i 16 e i 19 anni la percentuale sale al 75,7% E adesso parliamo di sicurezza delle strade perché ieri l'assessore regionale Francesco Baldelli Ha annunciato i 23 comuni della provincia di Pesero e Urbino destinatari di 2 milioni di euro Fano e Urbino però sono rimasti a bocca asciutta La città ducale non è stata ammessa mentre Fano non ha nemmeno presentato i progetti Servizio di Letizia Marchionni Strade comunali più sicure e agevoli, nuove rotatorie e parcheggi Sono 23 i comuni della provincia di Pesero e Urbino vincitori dei bandi regionali sulla sicurezza stradale Che beneficeranno di oltre 2 milioni di euro che con la compartecipazione delle amministrazioni Di circa 990.500 euro diventeranno oltre 3 milioni Tra coloro che hanno ottenuto i finanziamenti come ad esempio la città di Pesero A cui sono stati assegnati 80.000 euro che saranno destinati alla realizzazione di un deposito per biciclette Vicino alla stazione del treno o il comune di Mondolfo che beneficerà di 100.000 euro Non spiccano però i nomi delle città di Fano ed Urbino rimaste escluse dalla pioggia di risorse dalla regione Se infatti la città della fortuna non ha nemmeno tentato di accedere al finanziamento Urbino invece ha presentato un progetto che però non è stato ammesso Mai la regione aveva stanziato così tante risorse per sostenere i comuni marchigiani Nella messa in sicurezza e nel miglioramento della rete stradale comunale Ha affermato l'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli Si tratta di contributi assegnati con bandi nella massima trasparenza In maniera capillare su tutto il territorio regionale e diffusi a tantissimi comuni Ha concluso l'assessore, complessivamente i beneficiari sono 139 comuni marchigiani La regione Marche investe ben 11 milioni del proprio bilancio per attivarne altre 9 Quindi 20 milioni di euro che verranno messi a terra e che vanno a finanziare i comuni Come ben si diceva non si vanno più a finanziare, ad inseguire le emergenze Ma si vanno a programmare interventi per la sicurezza e il decoro urbano Nell'arteria stradale di competenze dei comuni Questo per evitare in futuro che si creino proprio quelle emergenze sulla sicurezza L'intervento è diretto ai comuni perché sono stato sindaco, ha spiegato Baldelli E ritengo che i sindaci vadano sostenuti in quest'azione volta a garantire la sicurezza dei cittadini Vista la penuria di risorse che a volte nei bilanci vengono destinate alle infrastrutture e alla sicurezza Un intervento sistematico che riguarda tutta la regione e che copre le esigenze di almeno il 62% dei comuni marchigiani Per la prima volta non si assegnano risorse ad hoc a quel sindaco o all'altro comune Ma si assegnano importanti risorse regionali sulla base di un bando della regione Marche a cui tutti hanno potuto partecipare I consiglieri di minoranza a Fanno hanno fortemente criticato questa occasione persa per il comune Che dunque non ha ottenuto i finanziamenti della regione La coordinatrice di Fratelli d'Italia denuncia l'incapacità e la mancanza di puntualità dell'operato dell'assessore competente Fabiola Tonelli E chiede perché non abbia presentato l'istanza Hanno scelto in piena coscienza di non partecipare Hanno commentato invece i consiglieri del Movimento 5 Stelle Perché i lavori pubblici hanno una carenza di organico e stanno lavorando su altro Il deficit del personale è un problema reale Maseri, prosegue la nota, ne parla come se fosse una fatalità E non una responsabilità di chi governa la città da sette anni e mezzo E pensare che nel caso della sicurezza stradale era sufficiente avere un progetto pronto nei cassetti Se i seri e i suoi assessori non sono capaci di portare i sogli a Fanno Hanno concluso e pentastellati Allora dovrebbero andarsene subito a casa E rimaniamo a Fanno per continuare a parlare di strade O meglio di buche come quelle che circondano il complesso di Via delle Querce a Ponte Metau Una distesa di buche, la maggior parte dei veri e propri crateri Ma anche avvallamenti in tutta la zona dedicata alla sosta dei veicoli in Via delle Querce Si presenta così l'asfalto in questo tratto di strada situato a Ponte Metaurafano Una situazione che continua a rappresentare sia un pericolo per le persone Che un incubo per gli automobilisti Da quanto tempo ci sono le buche su questa strada? Ma io gestisco questo locale da un anno, le ho sempre viste Poi ovviamente con la pioggia e il peggioramento delle condizioni Si sono allargate o alcune più profonde di prima Però ci sono da sempre, da quando io sono qua Lo avete già segnalato al Comune? L'abbiamo segnalato diverse volte al Comune Sia gli operatori del Comune che vengono a fare i lavori Che direttamente con le telefonate Però non abbiamo avuto mai nessuna risposta né positiva né negativa Completamente assenti I clienti si sono lamentati, vi hanno fatto notare questo problema? Sì, ce lo segnalano sempre e quasi danno la colpa a noi Come se fosse la strada nostra e da sistemare le nostre spese Ma in realtà quella è una strada del Comune O della provincia, non so chi spetta Ma il problema è che essendo molto profondo Le buche ci lasciano veramente, striscano i paraurti E fanno danni alle macchine Quindi di conseguenza non sono contenti quando parcheggiano Per fortuna un 4x4, però insomma è una situazione un po' problematica Abbiamo più buche che asfalto Adesso con la mia non si sentono Ma con una macchina normale Fai fuori gomme, cerchi e ammortizzatori E non paga il Comune Davanti a casa mia Io ho il parcheggio per dei usabili Per mio fratello Non posso Dove abita? Via Le Giullini Non posso parcheggiarla lì Perché sulla strada ci sono due buche così Con i sassi grossi così Ho dovuto far riverniziare i cerchi Del Range Rover che non costa poco Perché saltano i sassi Ma non i sassolini, sono grossi così Dunque uno stato di degrado che riguarda diverse strade Cittadini, la Giunta Comunale ha già approvato Il nuovo piano di asfaltature da 4 milioni di euro Previsto per il 2022 Ma nella lista che era stata comunicata Alla nostra redazione Non compaiono né Via Le Giullini Né Via delle Querce Ci siamo sposati, siamo la sanitaria Anche qua cedono persone anche diversamente abili Quali problemi riscontrate? Molti problemi perché la strada è veramente un disastro Ci sono buche pericolose Perché da noi ci sono disabili Anziani, persone con deambulatori Con stampelle E quindi diventa molto pericoloso Passare e magari cadere su queste buche Per la loro incolumità Esatto, per l'incolumità La sicurezza è giusto Che provvedano il prima possibile Anche perché ormai andiamo avanti Da diverso tempo Anche voi lo avete già segnalato in comune? Sì, è stato segnalato Anche privatamente Abbiamo un numero di telefono Il quale chiamiamo per segnalare questo disagio Perché poi si tratta di un disagio Avete ricevuto lamentele particolari? Sì, proprio per questo Abbiamo comunicato più volte al comune Perché i clienti si lamentano E se la prendono con noi Di questa strada disastrosa Soprattutto dei parcheggi Perché poi è lì che c'è maggior pericolo E adesso vi mostriamo le immagini spettacolari Che arrivano dalla strada Statale 3 Flaminia Dove è stato completato Il primo intervento Per la demolizione di uno sperone roccioso Nel comune di Cantiano Un'operazione complessa Ma anche di alta ingegneria Ha commentato su Facebook Il sindaco Alessandro Piccini Che ha visto un articolato coordinamento Fra istituzioni E ha coinvolto diversi attori A cui va il nostro apprezzamento Per la professionalità E l'efficienza dimostrata Infatti, ha proseguito il sindaco Dopo neanche 10 minuti dalla volata È stata riaperta la viabilità Senza alcuna conseguenza Per la sicurezza dei veicoli E senza l'ingombro della statale Che è stata coinvolta Solo da polvere e qualche detrito Il materiale che si è distaccato È rimasto sulla sede della comunale Grazie alle reti E alle pareti di contenimento Fattore questo Ha concluso Piccini Di una corretta e puntuale analisi Di metri cubi coinvolti In funzione dei quantitativi Di esplosivo applicati Le prossime chiusure Sono programmate Per lunedì 8 E mercoledì 10 novembre Per circa 15-30 minuti Nella fascia oraria Compresa tra le 11 e le 13 Sono in programma Per domani a Fano Due iniziative legate Alla commemorazione Del centenario del milite gnoto Filippo Pucci Una giornata che vuole ricordare Il passato In modo da proteggere il futuro Attraverso la memoria Fano vuole rendere omaggio Al milite ignoto A cui il sindaco Seri Domani Giovedì 4 novembre Assegnerà la cittadinanza onoraria In occasione dei cento anni Dalla traslazione All'altare della patria Dopo la prima guerra mondiale Le nazioni che avevano partecipato Vogliero onorare i sacrifici E gli eroismi delle collettività Nella salma di un anonimo combattente Caduto con le armi in pugno L'appuntamento è organizzato Dall'amministrazione comunale Con la collaborazione Dell'Associazione Marinai d'Italia Dell'Associazione Nazionale Carabinieri E il Polo 3 di Fano Questa è la giornata Diciamo così conclusiva Di un fenomeno storico Che comincia praticamente Nel 1820 Con i primi moti Per i moti costituzionali Attraverso poi Le guerre di risorgimento Possiamo considerare Che la prima guerra mondiale È la conclusione del risorgimento E la tumulazione Del militegnoto È proprio L'atto conclusivo Di questo lungo fenomeno Che ci ha portato Alla unità geografica E politica Del nostro paese Quindi Significato importante Non soltanto Per il scorso storico Ma anche per il fatto Che in questi cento anni Si è costituita Una coscienza Che diventa Sempre più nazionale E sempre più condivisa Un programma Quello del 4 novembre Che vede due momenti Differenti Il primo Alle ore 9 Alla Darsena Borghese Con la cerimonia Della bandiera Mezzasta E la deposizione Di una corona D'oro Al monumento Dei caduti Di tutte le guerre In via Buozzi Il secondo appuntamento Invece Alle ore 17 Alla Sala Verdi Del Teatro di Fano Con letture Proiezioni Docu-film Omaggi musicali E approfondimenti A conclusione La consegna Della cittadinanza onoraria Al milite ignoto Un'occasione Per rileggere La storia Che è fondamentale Anche per le scelte Del futuro E un'occasione Per coinvolgere i giovani Con una prospettiva Verso la società Che cambia Ma che deve Avere sempre Saldi principi E saldi valori E c'è anche Un gesto simbolico Che è la consegna Della cittadinanza onoraria Al milite ignoto Perché come amministrazione Abbiamo voluto aderire Proprio per dare Questo forte valore A questo momento Che è una celebrazione Ma è anche Un momento Di grande riflessione E' il sentimento Che rappresenta Un po' il sentimento Del paese Ma anche di tante comunità Come la nostra Perché non dobbiamo Dimenticare Che quei Giovani Che sono morti Sono un po' I nostri fratellini Che non sono mai tornati a casa Sono quei fratellini Che non hanno potuto Vivere un futuro Ma con il loro sacrificio Hanno fatto vivere Un futuro Di un paese Splendido Come il nostro E sono stati ripristinati Da liceo artistico A Polloni I due pannelli Vandalizzati Nel sottopasso Del Lido a Fano Lo annuncia L'assessore al decoro Barbara Brunori Che puntualizza La bellezza È rigenerante Crea e non distrugge Ed ora L'album di Fano TV Questa sera Facciamo gli auguri A Mario Tessaguzza E Deanna Caldarigi Che domenica 31 ottobre Hanno festeggiato 50 anni di matrimonio Nozze d'oro Per questa coppia Di San Giorgio di Pesaro Del comune di Terre Roveresco E nello stesso giorno Hanno festeggiato Le nozze d'oro Anche Eliseo Ricci E Mariella Giancarli Residenti a Sant'Orso di Fano Auguri Da parte di tutti i familiari E ovviamente Dallo staff di Fano TV Bene Il nostro telegiornale Termina qua Tornerà domani sera Come sempre Alle 20 e 30 Invece domani mattina Alle 7 in diretta La nostra rassegna stampa Buona serata a tutti voi Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti